Partiamo dall'Ariete. Gli astri promettono costanza nei progetti e il consolidamento delle storie che ancora non hanno preso le sembianze del matrimonio o della convivenza. Toro, questo martedì potrebbe riservarvi una sorpresa. Tenete gli occhi aperti per non lasciarvela scappare. Consisterà in una bella e tanto attesa rivincita. Gemelli, per colpa delle stelle sul lavoro non procederete efficacemente. Dovrete esaminare le difficoltà e poi studiare le strategie giuste per affrontarle. Potrebbe affiorare anche una certa stanchezza. Cancro, avendo gli astri a sfavore nella professione datevi un metodo e cercate di essere ordinati e puntigliosi. Accantonate tutti i progetti poco porfiqui, frequentate persone di spessore. Leone, oggi vi sentirete un po' soli, trascurati dalla dolce metà, anche se in realtà avete ben poco da recriminare. Date un tocco di grazia alla giornata organizzando una romantica cena a due. Vergine, oggi sarete in grado di occuparvi di proposte lavorative interessanti e complesse che promettono ottimi introiti. Vi sintonizzerete insieme a chi vi ama su ritmi di vita più rilassati e più consoni alla vostra felicità. Bilancia, sforzatevi di dare il giusto peso alle cose che vi capitano e imparate a prenderle quando ce n'è bisogno anche con una certa filosofia. L'amato bene vi dimostrerà un tale trasporto che avrete la sensazione di camminare sollevati da terra. Scorpione, la sintonia a due è magica. Riuscirete a prevedere i pensieri dell'altro prima ancora che vengano formulati. Per i single è probabile un magico incontro. Sagittario, le stelle vi punzecchiano. Che fatica a rimanere tranquilli. Tenderete ad agire frettolosamente e ad essere ipercritici. Se volete fare un appunto al partner per un atteggiamento che vi ferisce, fatelo, ma prima riacquistate la calma. Capricorno, positive evoluzioni per chi è in coppia. Per i single, se ce la farete a non dare nulla per scontato, si prospettano nuove e coinvolgenti conquiste. Avete la testa piena di idee, ma dovete applicarvi di più. Acquario, oggi gli affetti potranno essere una piacevole ose di serenità. Nel rapporto di coppia lasciate spazio alla leggerezza e al divertimento. Non sentitevi in colpa se dovete rimandare qualche impegno. Pesci, le stelle vi doneranno il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto, con un tempismo e un'abilità invidiabili. Organizzatevi nel lavoro o nello studio per avere a disposizione più tempo libero da godere con il vostro amore. Grazie.